C'erano due strade, i film horror erano seri, volevo fare film horror, però non ci riuscivo e facevano ridere Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement, ci stiamo, ci siamo e ci stiamo per alto, per fortuna, all'interno del Basement Anche perché vengono a trovarci degli amici, degli amici speciali, sono molto contento, occhio a questa puntata, occhio, occhio e orecchie anche Dato che alla fine è un podcast, se ci state ascoltando su Spotify continuate a farlo, se ancora non l'avete fatto e vi va e ci state ascoltando su Youtube Iscrivetevi a questo canale, ciao io sono Gianluca Gazzoli, benvenuti da Passa dal Basement E Passa dal Basement come suggerisce anche il termine, ora starò attento a utilizzare qualsiasi tipo di parola perché entro in quel meccanismo in cui penso L'ospite secondo me starà pensando a delle cose, ma è impossibile entrare nella sua testa, però cercheremo di fare una bella chiacchierata Attenzione, è successo dal Basement, è passato, Maccio Capatonda Eccomi, eccomi, anch'io faccio fatica a entrare nella mia testa, quindi non so cosa potrò dire Infatti questo rende tutto più complicato perché infatti tutte le volte che immaginavo questa chiacchierata perché l'ho immaginata tante volte Io ti ringrazio un casino per essere riuscito a passare ed essere qui con noi Grazie a te dell'invito, sono molto felice, ho visto molti miei colleghi nelle tue podcast Ce ne sono un paio in particolare Tipo Lundini Tipo Lundini, bravo E tipo Nino Frassica E tipo Nino Io sono un suo grande fan da quando sono nato, sono cresciuto grazie a lui I miei video si ispirano, comunque la mia comicità deriva un po' da quella sua E poi ci siamo conosciuti e apprezzati a vicino Cioè lui ha iniziato a conoscere me Questa è una figata, peraltro ha fatto anche la prefazione del tuo libro E io ho fatto la prefazione del suo, cioè ho fatto la prefazione al prezzo Chiaro Mentre con Valerio Lundini siamo amici da più o meno 3-4 anni Da prima perché lui è amico di un altro mio amico che è Luigi Di Capua Ah certo, di The Pills E quindi ci siamo anche lì apprezzati molto Tutto questo è molto bello perché poi chi vi segue ama quando tra di voi vi beccate E vi raccontate, cioè è bello immaginarsi il background vostro Invece poi le nostre cene sono molto tristi Esatto Non ci credo neanche però c'è aspettativa Cioè se uno dice vado a cena con Maccio, Nino Frassica e Valerio Lundini Uno si aspetta Sì, l'unico veramente comico sempre In realtà lo siamo tutti però Frassica è veramente una fuccina di battute, di cazzate Io magari solo quando sono veramente nel flow divento molto simpatico Cioè lui anche se arriva, non so, la cameriera prende l'ordinazione Fa comunque la battuta, riesce Vive proprio nel suo mondo di surrealismo Mentre io ho sempre anche questa vena un po' malinconica, drammatica Che comunque per andare nel surreale devo veramente sentirmi ispirato Invece lui è dritto Anche Lundini è abbastanza ispirato comunque Beh molto, moltissimo Poi insomma anche qui sono state delle bellissime puntate, delle belle chiacchierate La difficoltà tante volte a volte proprio con dei personaggi come voi Che sono sostanzialmente La loro comicità è sul surreale Io all'inizio pensavo ma chissà come Cioè ma parleremo seriamente o scherzare Invece devo dire adesso non so come andrà la nostra Però anche con Nino eravamo partiti tutti un po' surreale Poi sono venuti fuori invece dei concetti fighissimi Che sono piaciuti tanto In questo caso Contesto dal mio punto di vista è anche maggiormente speciale Perché ad esempio Nino Frassica L'ho conosciuto sì da bambino Perché i miei nonni lo vedevano Perché mia mamma lo vedeva Però l'ho già come dire L'ho preso come un dato di fatto Valerio l'ho conosciuto io da più grande E invece tu maccio sei stato un mio cazzo di mito Per tutto il periodo della scuola Per tutto il periodo insomma dell'adolescenza E tuttora insomma fai delle cose fighissime che mi piacciono E quindi mi sono sempre chiesto Chissà cosa tiriamo fuori da una chiacchierata così Intanto tanta roba Cioè speriamo Io sono sempre sotto Mi sento sempre molto dallo psicologo Quando faccio queste chiacchierate Beh perché poi alla fine E siccome non vado dallo psicologo Mi serve farle Risparmi Risparmi anche così Le interviste Però comunque noto che hai sbagliato l'outfit Cioè no E questa è una felpa sbagliata Ah è proprio la felpa sbagliata Sì perché c'è stato un errore Chiaro Quello che le stampava Ha scritto maglietta sulla felpa Io gli ho detto No cazzo è un errore Basta Sbagliato tutto E poi abbiamo detto No però invece è bella Facciamola E quindi è nata Da un errore di Valerio Nasce maglietta La felpa sbagliata Tra l'altro anche il tuo libro Si chiama libro Che questa è un'altra cosa Molto molto importante Ci hai pensato tanto Prima di scegliere il titolo Sì tantissimo Sì tantissimo Perché il libro è proprio L'arrivo di un percorso lunghissimo Di titoli assurdi Titoli strani Titoli fuori Ah quindi non sei andato diretto Su un libro No no E poi ho detto Ma secondo me il titolo più strano È quello più semplice Cioè è proprio la fine di questo percorso E fai il giro E arrivi da Mi ricordo uno degli ultimi Era la sete dei nidi di Satana Oppure Gigi e i sotterfugi Ti titoli Che mi venivano in mente E poi alla fine Arrivo al libro Che è la cosa più normale al mondo Sì che poi ci sta E che poi si sposa perfettamente Anche con la tua Con la tua ironia Anche con l'oggetto Si sposa Beh non è che sta bene Cioè uno non dice Ma anche nella promo Perché poi ho avuto un successo fortissimo Anche perché tu sei stato bravo a raccontare Cioè nel senso uno Ho il nuovo libro di Maccio Capatonda Però cosa ti aspetti Che ci sia dentro E tu sei riuscito Ancora prima Convincere le persone In qualche modo A prenderlo Sì Io l'ho promosso Come se fosse Innanzitutto un oggetto Una sorta di oggetto Che può essere utile per tanti Al di là della lettura Al di là della lettura Perché Mi sono rivolto ai miei fan Che non sono lettori Nel senso che di base Sono spettatori dei miei video Quindi abituati ai video E ho detto Questi magari non sanno leggere Non hanno Non sono analfabeti alcuni E quindi ho detto Magari Gli faccio vedere Che il libro si può usare Per tanti altri utilizzi Quindi tagliare le verdure Sì sì ho visto Schiacciare gli insetti Fare altre cose Così ho detto Vabbè quindi Quelli che non lo sanno E poi volendo Alcuni lo possono anche leggere Lo comprano anche Sì 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 Con un altro intento Visto che poi è uscito Libro 2 L'ultima uscita È Libro 2 Ero un po' confuso Perché mi è arrivato Libro 2 L'edizione Limited Edition Quindi l'edizione limitata Con quella per la montagna Sì Perché Libro 2 Nasce per essere Un libro da mare Si chiamava Il sottotitolo Racconti da mare Ed era un libro Specifico per la spiaggia Da usare lì Perché contiene giochini Racconti molto brevi E leggeri Un libro leggero A differenza di molti altri Che magari pendono Al mare Si portano le enciclopedie enormi Io ho cercato anche qui Di fare una promo Spingendo su I libri giusti Per la spiaggia Quindi libri leggeri Anche di peso Che si può usare Come racchettone Insomma Tanti utilizzi È impermeabile Puoi salvare Addirittura Usalo come tavoletta Per nuotare Fantastico Ma tanti utilizzi Anche quello Poi però Ci siamo resi conto Che a novembre Nessuno più leggeva Libro 2 Perché Era per il mare Era per il mare E quindi Abbiamo detto In più Il protagonista Della copertina Del libro Aveva molto freddo Perché ero io nudo E quindi abbiamo detto Ma perché Non facciamo una copertina Per questo Che ha freddo E abbiamo messo Questa copertina Addosso Con Invernale E da lì E da lì è nato Libro 2 Racconti da neve E poi tutti L'hanno letto Perché a volte Basta semplicemente Insomma Aggiungere poco Per cambiare tanto Abbiamo fatto Questa furbata Perché Mondadori Mi ha detto Ma poi Libro mare Chi lo legge In inverno E quindi abbiamo pensato Questa cosa C'è sempre Una soluzione Praticamente a tutto Tanto tu non vivi più A Milano Stai vivendo a Roma Sì ho fatto questa Scelta di vita Scelta di vita Molto molto forte Sì Dopo 20 19 anni a Milano Dal 2000 al 2019 Ho vissuto a Milano Poi mi sono trasferito a Roma E devo dire Che è una scelta Che mi è Piaciuta molto Cioè Si sta dando Molti frutti Perché È in concomitanza Con un mio cambiamento O con una mia apertura Verso alcune cose Ad esempio Libro L'ho scritto Proprio Stando a Roma Secondo me Se fossi rimasto a Milano Non avrei scritto Libro Avrei detto No ma io Non sono uno scrittore Non mi va Cioè a Roma Il cambiamento Della città Mi sta dando Anche Un'ispirazione L'idea Di cambiare Qualcosa In me Cioè Di aprirmi A progetti Che magari Prima non avrei fatto Ho fatto tante scelte Libro Ho fatto un film Come attore Non protagonista E un film Non scritto da me Che si chiama Rapiniamo il Duce Su Netflix E poi ho fatto LOL Certo LOL Ad esempio Non avrei mai fatto Secondo me Se fossi Di questo a Milano Ma sì perché Il cambiamento A volte È utile Per dare Il cambiamento Esterno Di luogo Insomma Di città È utile Per dare Una spinta Anche a un cambiamento Interiore Per quanto mi riguarda E anche viceversa E anche viceversa Cioè se cambi dentro O inizi a cambiare dentro Magari senti il bisogno Di cambiare anche Il luogo dove vivi E questo Si sta continuando A concretizzare Ancora adesso Perché Mi hanno proposto Altre Sono arrivate Tante cose Fighe Nuove Nella mia vita Ma anche perché Sei tu In qualche modo Ad attrarle Perché cambi un po' Il tuo atteggiamento Era quello A questo Quindi Milano In realtà Un po' Ti aveva Incupito Milano No Non incupito Però mi aveva Reso un po' Comodo Molto comodo E la vita Di un artista Un po' Non deve essere Troppo comoda Perché Devi sentire Che c'hai Tanto Da dire Devi Trovare Il motivo Per parlare Della realtà Che ti circonda Io avevo La sensazione Che magari stavo Cioè non avevo più In questa bolla Di efficienza Che è Milano Che ho amato Tanto Però Dopo un po' Mi sono sentito Un po' Più Staticizzato Ho la sensazione Che dovevo Cambiare Anche perché 19 anni Sono tanti In un luogo È bello Anche Adesso In realtà Sei nato Io sono Abruzzese Sono nato A Chieti A Basto Sono cresciuto A Chieti Fino a Fino ai 18 anni Poi ho fatto L'università Perugia Poi ho fatto L'erasmus In Inghilterra Sono ritornato A Perugia A finire L'università Anzi Non l'ho finita A Perugia Perché poi Sono subito Venuto a Milano A fare uno stage In una casa Di produzione Pubblicitaria E da lì E da lì Mi sono laureato Perché sono Risposto Poi a lavorare Lì come Assistente Di produzione Aiuto Regia Operatore Backstage Questo ti parlo Degli anni 2000 Ok E poi Quindi dal 2000 Ho iniziato A vivere a Milano All'inizio è stata Dura Perché comunque Era un impatto Forte Venendo da Perugia O comunque Da Chieti Però era comunque Una Una sorta di mecca Per me Milano La vedevo come La città Della televisione Roma era il cinema Milano Era la città Della televisione Che mi ha dato In attaccia Che mi ha cresciuto Più dei miei genitori Probabilmente La televisione Quindi essendo Un prodotto Televisivo Milano era La meta Cioè cosa guardavi Che erano le cose In tv Che io ero Proprio fan Di qualsiasi cosa Dalla tv Dalla Fininvest Che era forse Il mio Cioè la tv Che guardavo Di più Era proprio quella Per i ragazzi Tutti i cartoni animati Bim bum bum Ciao ciao Che era Lo stessa cosa Di bim bum bum Però che andava In onda su rete 4 Poi guardavo Tutte le I telefilm Che si chiamavano Telefilm Non serie A quell'epoca Mi ricordo I miei preferiti Erano tipo La famiglia Addams Quella in bianco e nero Happy days Il ralph super maxi eroe Quelli proprio anni 80 Neanche MacGyver MacGyver Già era un po' Un po' dopo Infatti ero più io Forse Lo guardavo Proprio c'era Quelli tipo Automan E Menimal Sì certo Oppure L'uomo da un milione di dollari La donna da un milione di dollari Wonder woman E tutta sta roba Ha influito comunque Sì Poi tutti i programmi Tipo drive in Anche i programmi Della Rai Tipo indietro tutta Quelli della notte Anche con Nino Franzi Quelli sono stati I primi a fare Delle cose Sì Come cambiano le persone Nei tuoi confronti Tra Roma e Milano Il pubblico Che ti trova Che ti conosce Sai che C'è sicuramente A Roma Un atteggiamento Più confidenziale Ti parlano In maniera Però anche a Milano Adesso sono arrivato a Milano In stazione Mi hanno fermato Tante persone Con grande calore Quindi Non ho notato Forse perché Un po' mi vedono Come Milano Sono ancora milanese In realtà Forse perché Non ha ancora cambiato La residenza E loro lo sanno E loro lo sanno È incredibile Lo sentono Questa cosa Della carta d'identità Però Anche perché Nel tuo caso Cosa Tu come sei Quando incontri Le persone Nel senso Perché poi In realtà Tu hai Un tuo Almeno Per quelle volte Che mi è capitato Anche di incontrarti Di incrociarci Non sei particolarmente Esuberante In pubblico Non so come dire Anche la tua comicità Eccetera È su quello Che stai facendo Sì Poi Secondo me Questa mancanza Di esuberanza Va un po' A braccetto Anche con la mia timidezza Ecco Infatti Questo Volevo dire E ultimamente Sto cercando Di essere Più Espansivo Anche con Quelli che mi fermano Cioè Ho sempre avuto Un grande imbarazzo Quando mi fermano Perché non so Cosa dire Infatti Che ho avuto Questa sensazione Perché loro C'è una grande discrepanza Tra quello che provano Loro per te E quello che tu provi Per loro Perché non sai Chi sono queste persone Cioè Non hai proprio idea Di chi siano E invece loro Hanno idea E loro hanno molto idea Di chi tu sia E anche Hanno un'emotività Nei tuoi confronti Molto intensa Sì E questa emotività Però spesso Cozza Con la tua Di emotività Che è totalmente E quindi Devi cercare Proprio di creare L'empatia Spesso si crea Perché magari senti Proprio un calore umano E un'empatia Con loro Altre volte Magari no Altre volte Magari sono Situazioni in cui Loro pretendono Che tu ti faccia la foto Oppure che tu Oppure ti prendono Però io Li capisco Perché sono Trasportati Da un sentimento Incontrollabile In quel momento Perché ti vedono E dicono Wow È la stessa cosa Se io vedessi Ad esempio Michael J. Fox Sì O altri idoli Però Dico Michael J. Fox Perché rimane ancora Il tuo mito Il mio mito Di quando ero bambino Di sempre Quindi Di cui tra l'altro È uscito il documentario Da poco Still Beh la sua Cioè c'è stato anche il libro Recentemente Il libro Ne ha già fatti Più di uno E io l'ho letto Due E adesso cito il documentario Su Apple TV L'hai già visto Still Sì sì L'ho già Ho fatto Apple TV apposta Per vederlo Per vederlo Poi l'ho tolto No perché non sto Sto togliendo tutte le piattaforme Dalla mia Sì Voglio pagare i film che guardo Cioè singolarmente Sì sì Questa è una mia teoria Che secondo me Abbiamo troppi film attorno In generale Ci sono troppi contenuti Troppi contenuti E questi contenuti Cioè se tu immagini Non lo so Quanti contenuti ci saranno Sulle piattaforme Una caterva Settecento Mille Più di mille Sì Se poi conti tutte le piattaforme Questi film Perché io dovrei Vedere mille film Cioè che vuol dire Che io posso vedere La sera mille film Non ha senso Non li vedrò mai Mille film Quindi Ma anche per dare Lo fai anche per dare Più il valore Al singolo film che vedi Certo Certo Perché più film È a disposizione E più si svalutano I singoli film È come se vai In una gelateria Ci sono mille gusti Quale Quanto ci metti A scegliere il gelato Cioè ci metti Troppo tempo Io preferisco Avere Pochi film Una piattaforma Che ha un film al giorno Tipo la televisione Tu hai citato Apple TV Apple TV Vedo che a differenza Delle altre piattaforme Ne ha poche Molte Però Contenuti di grandissima Qualità Però ne ha meno Rispetto ad altre Mi sembra proprio una scelta Non che Apple TV Non le possa fare Infatti sto facendo La prova gratuita Magari lo Ti ha questa possibilità No è che proprio voglio Poi Apple TV C'è anche la possibilità Di comprare contenuti A parte Quindi Mi piace proprio Appassionarmi a un film E comprare Ma è un ragionamento Che secondo te Che fai anche Perché tu sai Che cosa vuol dire Fare un film Sai il lavoro Che c'è dietro A una serie A tutto quello So cosa vuol dire Fare un film E sono un cinefilo Di estrazione E quindi Sento che Non voglio Che questo Fantastico mondo Dell'arte Del cinema Si svaluti Ai miei occhi Ok Quindi voglio Dargli il giusto Peso Voglio che i contenuti I film Siano valorizzati Quindi Non voglio entrare In queste banche Dati enormi Dove C'è di tutto C'è troppa roba Troppa roba No diventa Tante volte poi Io personalmente Su alcune piattaforme Ma in generale Passo più tempo Dico vabbè Dai stasera Sono libero Me la guardo Poi dopo un'ora Ne ho guardate tutte Non ho scelto più niente Però lì servono magari Qualche amico Che ti danno consigli Sì Infatti io vedo solo film Che mi consigliano gli amici Qualcuno No no È quello che poi È quello che poi Non faccio più zapping No però tra l'altro Io ricordo che tu sei stato Anche uno dei primi A sperimentare Anche il mondo Cioè i nuovi mondi Non solo più quello Della televisione classica No nel tuo percorso Parli del web Sì Del web in generale Sì Il web l'ho sperimentato Inconsapevolmente All'inizio Perché I miei video erano Andavano in onda Su mai dire Martedì Certo Che era il programma Di Italia 1 Della Jalapas E Per la loro brevità Erano Condivisi dagli utenti Su YouTube Anzi inizialmente Venivano condivisi Sul sito Della mia casa di produzione E gli utenti E il sito Faceva un botto Di accessi Poi è arrivato YouTube Potevamo inventare YouTube Ce l'avevate già Poi è arrivato questo YouTube E mi ricordo I primi miei video Condivisi su YouTube Io non avevo Idea di cosa fosse E non avevo i diritti Per Per condividerli Per poterli usare Quindi È diventata Diciamo La mia notorietà Sul web È stata grazie È arrivata grazie Agli utenti Che hanno Che prendevano Ricaricavano Solo per quello Però come ti dicevo Appunto In quegli anni In particolare C'era proprio Nel senso Hai inventato Un linguaggio Totalmente nuovo Che però Parlava lo stesso Alle nuove generazioni Pur non essendo tu Comunque un adolescente Quando facevi questa Questa cosa Come ci sei Come ci sei arrivato Cioè io proprio Nel senso Mi ricordo Ripeto Era il periodo Magari della scuola Quando tu facevi I propri primi Ed era Oh no Domani Ci sentivamo Dopo che avevi fatto Il giorno dopo Riplicavamo La febbra Vabbè Per dirtene uno Eccetera Ma Come sei arrivato A fare quella cosa lì Allora Io ci sono arrivato Innanzitutto Fin dall'età Quando ti parlavo Di Ritorno al futuro Io fin dall'età Di sette anni Ho deciso Che volevo fare Questo lavoro Quindi ho Rotto le palle I miei genitori Per farmi comprare Una telecamera Cioè tu volevi stare Dietro alla telecamera Io volevo stare dietro E davanti Cioè io volevo Evadere dalla realtà In qualche modo Perché mi sembrava noiosa Avevo il mito del cinema Oltre della televisione Anche del cinema Quindi Ho deciso Che avrei voluto Fare questo lavoro Stare il più possibile Nel mondo Dell'evasione Della fantasia E quindi Mi regalarono Una telecamera Alla prima comunione Da lì ho iniziato A fare video Minifilm Prima facevo gli horror Con i miei amici Giravo un sacco di video Questo durante Tutta l'adolescenza Ho fatto film Dal titolo Improponibile Tipo Venerdì 13 Jason Acchieti Venerdì 13 Jason Acchieti Seriamente Cioè erano cose serie O cose sempre Comiche Il film horror C'erano due strade I film horror Erano seri Volevo fare film horror Però non ci riuscivo E facevano ridere Perché erano fatti Con mezzi Orribili C'erano Il mio amico Che quando Perdeva la testa Poco prima Di perdere la testa Gli crescevano Le spalle Sì perché doveva tirare Su la felpa E poi E' lì che diventavano I capelli verdi Perché Perché Dovevamo fargli partire Questa testa Quindi costruivamo le teste Con i gomitoli I capelli con la lana I gomitoli di lana Che però non avevamo Il colore Quindi facevamo verdi Quindi c'erano Degli effetti Che risultavano comici Quasi trash Direi E poi c'era L'altro filone Che era un po' Quello degli sketch comici Che facevo sempre Con i miei amici E lì Risultavano Comici Giusti Quindi poi a un certo punto Vabbè Con il percorso universitario Mi sono trovato A fare uno stage a Milano In una casa di produzione pubblicitaria Che era la Film Master E E da lì Ho iniziato a fare Un po' di gavetta Nel mondo del Vero Del set Dell'aiutoregia Della produzione Anche del montaggio Perché montavo un po' Con le centrali analogiche Io da piccolo montavo Con due videoregistratori Film Cosa che era Molto molto Lunga È difficile Ci mettevi praticamente Dovevi stare un giorno intero A montare Per finire un film Di 30 minuti 40 minuti Non potevi mai fermarti Perché sennò si sganciava Quindi C'è stato questo E poi Secondo me La svolta proprio Che ho avuto È stato È stato proprio Il montaggio digitale C'è stato questo Passato Quando nel 2000 Più o meno Si è passati a Premiere Che esisteva dal 95 In realtà Premiere Però Era super professionale Era super pro È diventato abbastanza Prosumer Come tecnologia Io ho detto No ma io questa cosa La devo avere Mi sono scaricato La versione Craccata Del software Ho iniziato a montare video In mini dv Con la telecamera Che mi davano Per fare i backstage Sui set degli spot Che giravo Sui set degli spotoni Che girava la film master E con questi video Mi giravo questi video A casa Facendo personaggi assurdi E il montaggio digitale Mi ha fatto capire Quanta libertà Ci potesse essere Nel montaggio E da lì Sono partiti Questi Questi trailer Di film improponibili Perché bastava Avere un minimo Di abilità Nel montaggio Mi scaricavo i suoni Da Apple I trailers Da Apple trailers Dove c'erano i suoni Mi scaricavo Altri suoni Le musiche Da I Mule Quindi Tutto il mondo Del digitale È confluito Nel mio computer Ho iniziato Nella mia testa In realtà Ma perché lì tu Avevi avuto Avevi notato Che c'erano alcuni trailer Perché poi Da te in poi Io non sono mai più Riuscito a guardare I trailer seri Perché ovviamente Ogni volta che li vedevo Rivedevo Quello che facevi tu Sì Io avevo notato Che i trailer Erano un prodotto Facilmente parodizzabile E nel senso che Era facile Riuscire Con pochi dialoghi Girati E con Perché erano delle piccole Sinedocchi Sinedocchi Che I film E quindi Non dovevi girare Tutto il film Bastava Quelle cose giuste Che ti servivano Per far ridere Poi mettevi Montavi bene Con le musiche Suoni E speaker Anche L'idea di fare lo speaker Per me è sempre stata Un sogno Io volevo fare Il doppiatore Lo speaker Anche lì Ho doppiato Tutto il ritorno al futuro Con la mia voce Da quando avevo 16 anni Più o meno Ecco perché allora Eri così attento Alle scarpe Sì sì Vabbè certo Sono proprio Proprio fan totale L'ho visto più di Quasi 200 volte Ritorno al futuro E lo doppiavi Lo ridoppiavi tutto L'ho ridoppiato C'è una versione A casa di Ritorno al futuro Con la mia voce Al posto di quella Di Teobellia Non è mai uscito Questa è una roba tua No Però adesso Tra l'altro Qui ho portato Perché me li voglio Far digitalizzare I miei film I quando ero bambino Sono alcuni rovinatissimi Non si possono Però sono dei ricordi Assurdi Però li devo Devo far digitalizzare O ripulire Perché sennò Andranno persi Subito E quindi da lì Montando questi trailer Mi sono reso conto Che avevano una forza Un'efficacia Impattante Molto impattante Quando mi chiamò La Jalapas Videro Un personal trainer Che io avevo fatto Un video di un Pinto personal trainer Americano Che parlava in inglese E si doppiava da solo Che si chiamava Jim Messio E faceva degli esercizi Improponibili Che facevo vedere Agli amici Ai colleghi Nella film In film master Una ragazza Che lavorava lì In film master Mi disse Ma io conosco uno Della Jalapas Questi video Mi fanno molto ridere Magari li faccio vedere E li fece vedere A Carlo Taranto E loro mi chiamarono Dopo qualche mese Dicendo Se potevo fare L'edizione successiva Del programma E lì proposi A loro dei trailer Tra cui La Febbra Che era il primo trailer Il primissimo trailer Che montai E girai E quello Andò bene su Cioè tu ti accorsi Subito dell'impatto Che aveva Perché poi In quegli anni lì Anche la televisione La Jalapas In particolare Aveva comunque Degli ascolti Fortissimi Io mi accorsi Innanzitutto Mentre lo montavo Che c'era qualcosa Di più Di quello Che stavo facendo Non so Perché proprio Era il primo trailer Avevo fatto Altri trailer Ma non erano stati Erano strani Molto sconnessi Invece questo Mentre lo montavo Diciamo Sta venendo qualcosa Che è diversa Che è diversa Dalle mie premesse Cioè da quello Che mi aspettavo Però È come se fossi guidato Da una mano Che io In controllata Che non controllavo Io Eri posseduto Ero posseduto E poi ho detto Cacchio Come se una roba Strana Non lo so E loro l'hanno vista L'hanno mandata E sì È stata È stato È graduale Comunque Il successo Dei miei video Comunque Prima ho fatto I reality I finti reality Tipo il divano scomodo Il gabinetto Il grandangolo Poi ho fatto La fe I primi trailer Ho fatto Ma basta Ma basta Veramente però Io per conto Se sto male Io dico ancora oggi Dottore Chiami un dottore E qua Nel podcast Abbiamo fatto Una puntata speciale In cui abbiamo Intervista Ho chiacchierato Con Ben Affleck E Matt Damon Una roba assurda Surreale E nei commenti La maggior parte Dei commenti era Ci vorrebbe Ci vorrebbe Per fermarti Adesso ci vuole Ben Affleck Ma c'era veramente Ben Affleck Sì L'abbiamo fatto In collegamento Ma è stata Una roba assurda Talmente assurda Che a quel punto Ci voleva Ben Affleck Per fermarci Per mettermi i piedi in testa Ci vuole Ben Affleck Ecco quella roba lì Cioè ti arriva tutto a te Cioè sei tu da solo Che ti metti lì In un momento Di grande ispirazione O sono cose Che ti è capitato Di dire No i trailer I primi Soprattutto li scrivevo Da solo O con il mio amico D'infanzia Luca Rossetti Che con cui Facevo gli sketch Da bambino Quindi c'è proprio Tutto il mio Background Però Erano Tutti iscritti C'era qualcosa Che nasceva sul set Però Era tutto Perché noi dovevamo Girare Le scene Molto Precisamente Cioè Il trailer Era costruito In alcuni casi I primi no Però gli altri Erano degli sketch Alla fine Cioè il titolo Rappresentava la chiusa Dello sketch Quindi dovevi per forza Arrivare a quella chiusa Cioè dovevi caricarlo Tantissimo Per arrivare a chiuderlo Col titolo Esatto E quindi erano Molto scritti La febbre Invece è un trailer Che abbiamo veramente Girato quasi come fosse Un film Perché noi andavamo Nei luoghi E facevamo queste scene Seguendo Una traccia Di uno Mini script Una storia Una storyline Però poi le cose Che ci dicevamo Nelle scene Erano Quasi Molte Erano improvvisate Il film La febbra Potrebbe uscire Io ho sempre Desiderato di fare Un film Che si chiama La febbra Atomico L'avevo proposto È il primo produttore Che mi chiamò Facciamo la febbra Avevo proposto Questa trama Fuori di testa Però mi sembrava Troppo surreale Quindi Nessuno l'ha mai Secondo me Fra un po' Fa il giro Nel momento Cioè sarebbe Il primo caso Di un trailer Girato mille anni Prima E poi è uscito Dopo Sarebbe una roba Epica Oppure vorrei Anche rigirare Tipo i trailer Alcuni Tipo la febbra Reloaded Cioè la febbra In 4k Aggiornata Ah certo La febbra 4k Era fatta tipo Benissimo La febbra di Nolan Anche perché poi L'altra forza Erano I tuoi colleghi Che tiravano in mezzo I nomi Degli attori Insomma Quelle persone Che lavoravano con te Che in alcuni casi Sembravano totalmente Fuori contesto Nel senso che La loro forza Poi era quella Come venivano reclutati Beh io Casualmente Casualmente Alcuni Grazie proprio a Luca Al mio manager Luca Del Fuego Facciamo finta che non è qui presente Che non è qui presente Ah no Ah scusami Ok Che mi forniva Questi casi umani Barra Barra atto Cioè c'erano sia degli attori Sia dei casi umani Proprio Ok Della peggior specie Che nel mio caso Erano fantastici Beh era un valore aggiunto Sì E C'era anche una voglia di Cioè Io non sempre pensavo Che questi Non sapessero recitare Cioè Non mi rendevo Tanto conto Di quanto Il loro essere fuori luogo Fosse Comico Perché spesso Li prendevo Perché mi piacevano Magari visivamente No Mi pensavano delle facce Giuste Tipo Rupert Shaman Rupert Shaman Guarda stavo pensando A Rupert Shaman E lui aveva la faccia giusta Però poi parlava in un determinato modo Ma non era un attore Tirava fuori delle E quindi questo effetto Un po' trash anche Era dato dal fatto Secondo me Che c'erano alcune cose A fuoco Tipo il montaggio Le musiche Lo speaker comunque Però poi ce n'erano altre Invece che andavano Di contrasto Tipo la qualità Della recitazione Il contenuto Delle battute Tipo Dottore Chiami un dottore Quindi questo abbinare L'alto e il basso Sì Quindi la tecnica Di montaggio Le musiche fighe Con la spicciolezza Di alcune cose Sì Anche delle luci Anche della stessa Appunto della qualità Dell'immagine Creava questo Questo effetto straniante Che poi era Era il successo Di alcune cose Poi alcuni tipo Anna Pannocchia Insomma Sono tutte Che poi Ripeto Nei fan Nelle persone Che ti hanno seguito Negli anni Non erano diventate Delle persone De persone mitologiche Con leggende Anche dietro Cose che succedevano Quindi Madonna Sono state di storie Billy Ballon Anna Pannocchia Sì Insomma Quanto è durato Tutto quel periodo lì Anche perché poi Veramente era Tu facci Cioè Quella cosa lì Oggi Cioè Se tu avessi iniziato Oggi Funzionerebbe un casino Sul web Parlava già Quella lingua Sì Era già Per tiktok Sì Era già Perché aveva già Quel contrasto Come dici tu Tra una cosa Fatta bene E una cosa Volutamente Trash in alcuni casi È durato Dal 2004 Al 2015 14 13 Forse Direi Che con Mario La serie per MTV Che ho fatto Dove c'era Rupert Chiamenna C'era Anna Pannocchia Che comunque è andata Molto bene È finita nel 2014 Poi ho fatto il primo film I primi film E poi ho continuato A fare comunque video Però Già i trailer successivi Tipo L'uomo che non reggeva L'alcol Già erano fatti Con un po' più di qualità Quando sono iniziate A uscire Le 5D Le reflex digitali Già lì Abbiamo iniziato È migliorato Sì Oppure Il montatore gelosone Non so se l'hai visto Certo Lì c'era già Un po' più di qualità E c'erano Le idee Però rimanevano Mi piacerebbe appunto Fare Dei trailer Con una qualità Incredibile Ma con un contenuto Totalmente Bruttissimo Sì Vorrei capire Che effetto fa Sì Secondo me è quello Amplificato Probabilmente ancora di più Sì Perché Molti dicono Eh però Facevano ridere Perché erano fatti male Però fatti male Per alcuni versi Non per tutti i versi Perché se non avessero avuto ritmo Non avrebbero fatto ritmo E quindi mi chiedo Ma se invece erano fatti bene Anche sotto il punto di vista Fossero stati Fatti bene Sotto il punto di vista estetico Ma non Sotto il punto di vista Della recitazione Per dire O del contenuto Ma della qualità delle immagini Solo qualità delle immagini Iper qualità delle immagini Ma quella no Non credo che toccherebbe poi In negativo Anzi Secondo me Forse potrebbero Anche essere più forti Oppure dare un effetto Ancora più straniante E tra i vari personaggi C'era Herbert Con cui poi invece Avete fatto un sacco di cose Insieme Il caso umano Il primo Tra tutti i casi umani Era proprio Che poi Ha vissuto di vita propria E vive tuttora Anzi Lo saluto Che è un amico A voglia Sì sì Lui è stato proprio Proprio arrivato Come il peggiore Dei casi umani Perché si è presentato Come cameraman Ah sì 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 Era amico Del mio socio Ego Avido Dell'epoca E venne chiamato Perché non avevamo Un operatore Per girare Un video di Mariottide Che era per la Jalapas Ah ok Quindi lui mi disse C'è questo mio amico Che ha studiato il Dams A Bologna Dice che sta a fare Il cameraman Quindi te l'ha presentato Comunque Con un profilo Serio Profilo serio Un buon operatore E si presenta Lui sul set E non aveva idea Di cosa stava facendo Cioè non sapeva Dove premere Il bottone Ah c'è proprio così Cose Sì perché la telecamera Era nostra Lui doveva fare L'operatore Sì doveva solo premere Quindi Arrivo sul set Faceva tutte le inquadrature Storte Sbagliate Sfocate Io dissi Enri Questo Me lo cacci La prossima volta Non lo voglio vedere L'unica salvezza Fu che Era per Mariotti Del video Che è un personaggio Trash Triste Quindi le inquadrature Storte Sfocate Potevano star bene Alla fine andavano bene Poi E quindi dopo il primo giorno Gli ho detto No questo non lo voglio più vedere Perché è Inetto Poi Però Enrico Non recepì Questo mio consiglio E lo riciclò Come aiuto Produzione Non come operatore E quindi ho detto Vabbè dai facciamo Anche come aiuto Produzione Faceva fatica Un po' Ci ha messo Un annetto Per ingranare Però poco a poco Che ci lavoravamo insieme Ci rendevamo conto Che comunque Era una sagoma Cioè era un personaggio Un caso umano Come quelli Come gli altri Quindi Abbiamo detto Ma questo lo dobbiamo Comunque usare Il primo Primo video Che fece Fu quello di In cui faceva il figlio Di Mariotti De Fernandello In un videoclip E poi da lì nacque Tutto il rapporto Tipo casa Mariotti De Fernandello E l'uomo Che usciva La gente Che lui non voleva fare Perché diceva No ma io mi vergogno Ma io Ma che figura Faccio io Ma come che figlio Tu devi fare Proprio delle figure Di merda Cioè il tuo lavoro È questo Devi essere ridicolo E così Sarai Figo E sarai ricordato Sarai ricordato E infatti È stato così È funzionato Perché poi insomma È diventato un personaggio Fortissimo Sì Infatti poi Poco a poco Ha imparato molto Molto Molte cose Il mestiere Insieme a me Anch'io Ho imparato Tante cose Lavorando Con lui E ora È a Hollywood Sì Praticamente sì Tra l'altro Ha fatto LOL Recentemente Anche lui Un po' Anche sulle tue Sulle tue orme Sì sì L'abbiamo fatto insieme Nel senso che io Facevo il disturbatore Eh sì È vero È vero C'è neanche tu sul set Ma Tra l'altro Discorso Discorso LOL Anche in quel caso Quando c'è stata La prima edizione Tutti Tutti poi partono Per le prossime Il tuo nome Tutti dicevano Ci deberà essere Maccio Il contesto perfetto Luigi Come ti sei trovato Come è stata Come esperienza Allora All'inizio Sentivo che Tutti appunto Mi reclamavano E io ho detto Beh in effetti Potrebbe essere Una buona cosa Però avevo Molta paura Del cast Perché Non so se lo sai Ma i protagonisti Non sanno Non si conoscono Fino a quando Non sanno E quindi Avevo il terrore Di incontrare Gente Che con cui Non ti saresti trovato bene Proprio perché sono timido E poi quella È un'esperienza Per me Era la prima volta Che facevo qualcosa Dal vivo Infatti Non protetto Dal montaggio O dalla scrittura Sì Quindi è stata Un po' un parto Riuscire a Accettare Di farlo E in più C'era questa Prima edizione Che era talmente Andata bene Che c'era Da un lato L'ansia Di dire Non saremo Non saremo mai Non saremo mai A quel livello E dall'altro Però la voglia Di dire Però facciamolo Perché è figo Da un sacco Di visibilità Lol E però Io l'ho fatto Devo dire Proprio perché Ero all'interno Di questo percorso Sono ancora All'interno Di questo percorso Di apertura A voler Sperimentare cose Che non sono solo Scritte da me Poi comunque Lì dentro Ci vai tu Quindi ero io Lì E mi sono preparato Il più possibile Cercando di Provare gag Anche perché poi Noi lo vediamo Ovviamente già montato Con un ritmo Con una velocità Con la battuta La roba Ma voi che lo vivete dentro In realtà Cioè altri tuoi Colleghi Che hanno partecipato Mi hanno raccontato Che chiaramente È quasi surreale Quel momento Di tante cose Che magari noi Hanno fatto morire Da ridere E voi lì Neanche ne siete Quasi accorti Sì Sì Perché lì Non senti le risate C'è il silenzio Più totale Siamo solo noi Devi trovare Molta intimità Con gli altri Con gli altri Concorrenti Io avevo queste tre Anzi appunto Che non potevo Che non avevo mai Fatto cose dal vivo Che c'erano Dei miei idoli Lì Che l'edizione prima Era stata fantastica Che ero Non potevo fare Smorfie Certo Perché se facevo Delle smorfie Magari mi usciva Un sorriso Tipo facevo Ragazzi Come andiamo Fuori Subito Allora Io adesso sarò Privato Di tutta la mia Possibilità Skills E invece No Diciamo sì Mi piacerebbe Rifarlo Perché vorrei Perché vorrei essere Più 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 Rilassato Ero iperteso Senza questa Sbattacca Chi erano i tuoi idoli Lì dentro Beh Guzzanti Immaginavo Virginia Anche il mago forest Comunque un mostro Sacro Che tra l'altro conduceva Nelle edizioni in cui Tu facevi i tuoi pezzi Adesso se dici macho In generale Nella mia parte il pubblico Anche nell'ambiente Eccetera E tu di genio Macho Un grande genio Ma è sempre stato così O all'inizio Quando facevi questi video Non eri Non dico preso sul serio Però magari c'era un'opinione diversa Come è stato confrontarti Con la comicità Magari di chi appunto Faceva il comico Che aveva fatto Che ne so Lo Zeligo Altre cose No Devo dire che comunque I miei video erano sempre accolti In maniera Positiva Positiva E comunque Era un po' Un outsider Da sempre E tuttora Secondo me lo sono Cioè Anche i comici Che facevano cabaret Vedevano questi prodotti La stessa Jalapas Li vedeva come prodotti Estrani Ma molto forti Molto nuovi Molto originali Quindi E sono loro Che mi hanno dato Se ci penso La vera Beh certo Possibilità Di farcela Anche poi Nelle indicazioni Che mi davano In alcuni casi Mi hanno indirizzato Non tante Però spesso Magari mi dicevano Cambia questa cosa Questo trailer Non ha una chiusa Io dicevo Che cosa è la chiusa Che cosa è la chiusa Dicevano cose Che all'inizio Magari mi hanno Mortificato Tipo Questo non funziona Perché fa ridere Troppo Prima Cioè un certo Un trailer Mi ricordo Era lunghissimo Aveva un finale Bellissimo Però mi hanno detto Però fa ridere Troppo di più A metà E quello che viene E quello che viene dopo Non fa meno ridere Di quello che succede A metà Quindi l'ho fatto Finire a metà E mi ricordo Che ci rimasi male Però mi insegnarono Che appunto Devi sempre Devi salvare Il best for last Save the best Quindi E quindi Li vedevano Tutti Con Un occhio Da un lato Non era una cosa tradizionale Però è una cosa forte Beh è stata una scuola Quindi quello Il mondo di Jalapas Assolutamente sì E poi anche I commenti Della gente Già YouTube Diventò Il mio Teatro Tuttora lo è Cioè per uno Come che fa il videomaker Il pubblico Sono I commenti E le views Su Su YouTube Però Anche adesso Si vede che fai Le cose Perché ti divertono Non so come dire Anche adesso Ogni tanto pubblichi Dei video Dei contenuti Che non hanno Una strategia Non so come dire Ti gira una cosa La fai E Quella roba viene percepita Secondo me Dalla gente Sì Penso che Il segreto Di Molti Veri YouTuber Sia Quelli Creators Sia anche Quello di fare Le cose Che gli vengono Poi anche Puoi fare anche cose Strategiche O comunque Può stare con costanza Però A me piace molto Io sono diventato Poi un vero Creator YouTuber Molto tardi Perché fino a quel momento Avevo sempre fatto Solo cose su commissione Cioè Ho aperto il canale Nel 2013 Di YouTube E poi ho In realtà L'ho iniziato La prima cosa Veramente da YouTuber Che ho fatto È TG Casa Quarantena Nel 2019 Con la pandemia Sì 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 Quindi Figurati Cioè Lì ho veramente Sentito proprio Il rapporto Tra delle cose Che fai Dal nulla E poi Sui social Ogni tanto Pubblico cose A caso Cose che mi fanno ridere Però Il rapporto Con Con i fan E con i commenti È nato È nato Quello è fortissimo Infatti Diciamo Dici una cosa Su cui io sto riflettendo Tanto in questo periodo Soprattutto legata a YouTube Dove stiamo facendo Anche questa cosa In questo momento Cioè La libertà di dire Io ho un'idea La faccio E la libertà di vedere Gli altri che reagiscono A questa cosa Ti apre un mondo Ti dà una botta Di energia Di creatività In più Insomma Anche perché poi Il mondo stesso Della televisione Rispetto a quando Anche iniziato tu È cambiato tantissimo Tu come ti approcci adesso A questa cosa Cioè la televisione di oggi Non è più quella Di quando hai iniziato tu Non ci sono più Quelle tipologie di contenuti E neanche quei contenitori No Come la vivi Io Penso che Manchi un po' Per certi versi La scuola Cioè la scuola È diventata YouTube Però appunto Quello che ti dicevo prima Della Jalappas Che comunque Mi guardava Mi giudicava Mi aiutava Mi indirizzava Quella cosa Su Se fai solo Lo YouTuber Non la vivi La puoi imparare tu Automaticamente Dalle risposte del pubblico Che non hai detto però Che siano giuste Dalle views Però non c'hai proprio Chi ti insegna il mestiere Quindi in quel caso Ti mancano un po' In alcuni casi Maestri È tutto molto più Self made Che non è detto Che sia sbagliato Però Poi la televisione Io la guardo pochissimo Guardo spesso film Così Però proprio Programmi televisivi Poco Adesso so Che la Jalappas Sta per iniziare Un nuovo programma E mi dispiace molto Non Non ho potuto partecipare Perché Sto facendo il film Sto Sto girando Sto Per iniziare le riprese Quindi L'esperienza col cinema Com'è andata? Perché io ricordo Le prime volte Quando uscivano Quando era uscita La notizia del tuo film Eccetera eccetera Ho sempre pensato Chissà Cavolo Perché comunque Sei sempre stato abituato Magari dei contenuti Di una lunghezza Di un certo tipo Come si fa a tirar fuori un film Molto Molto vero questo Sì Io ho cercato Quando ho fatto il primo film Di fare un film Che non fosse Un'accozzaglia di sketch E poi invece Molti hanno scritto È un'accozzaglia di sketch Però io ci ho lavorato Molto bene Ci ho cercato Ho chiamato Uno sceneggiatore Insomma Ci ho lavorato Bene E l'esperienza film È stata Io venivo anche Da serie lunghe Un po' più lunghe Quindi non era La prima volta che facevo Però il film è comunque Un progetto molto diverso Molto più difficile Che richiede molta cura Pensa che la sceneggiatura Di questo terzo film La stiamo schiavando Da tre anni Per una serie di ragioni Anche dovute alla pandemia Però comunque Anche di più di tre anni Tre anni e mezzo E l'impatto col cinema È stato abbastanza traumatico Il primo film ha avuto Un bel po' di successo Italiano medio Che era l'italiano medio Sì Italiano medio È andato abbastanza bene Però comunque Non benissimo Diciamo È andato molto bene I primi giorni Poi ha avuto Un leggero calo Comunque fece All'epoca Penso quasi Quattro milioni e mezzo Di spettatori Che comunque È molto È tanto Adesso Adesso Fuochi d'artificio Adesso sarebbe Il film Al maggior incasso Dell'anno Quindi Però comunque Ho sentito Un po' di Freddezza In alcuni ambienti Confronti del mio film E invece Anche alcune critiche Negative Ma credi che siano figli Anche di un pregiudizio Legato al tipo di percorso Non so Se avessi fatto solo quel film E prima niente Probabilmente Non so come sarebbe stato accolto Forse un po' sì Un po' sì Perché magari loro vedevano I miei fan Vedevano dei video Che consideravano geniali Però poi Per fare un film Geniale Non è la stessa cosa Ma chiaramente Ha dei limiti È un prodotto diverso È un prodotto diverso Che deve anche avere una Recepito Essere recepito In modo diverso Il secondo film Invece Omicidio all'italiana Che andò Meno bene Al cinema Fece forse un milione Qualcosa Adesso sempre Maggiorissimo Maggior incasso dell'anno Fu Però Critiche migliori Critiche migliori Perché fu un po' più Coerente Con se stesso Un po' più inquadrato Era un film Ambientato in un paesino Quindi Era tutto più coerente E anche A memoria Non li ho rivisti Ultimamente Però me lo ricordo Più Più interessante Omicidio all'italiana Mi sembra un film Più In cui A mio gusto Per me è più bello Del primo E questo terzo Invece È una scommessa Proprio totale Perché sarà un film Che non è Neanche totalmente comico E quindi Voglio proprio In più sono io Abbastanza naturale Nel film Quindi spiazzerà Perché poi Nel tuo caso C'è sempre poi L'aspettativa Cosa fa Maccio Che cosa si inventerà Maccio questa volta Cioè la tua forza Tante volte Che tu dici Chissà cosa fa E poi dici una cosa O fai una cosa Che nessuno Avrebbe Avrebbe immaginato Secondo me I grandi Autori comici Degli anni 80 e 90 Tra l'altro Miei miti Come Troisi Verdone Francesco Nuti Benigni Tutti i miei miti Sono riusciti a trovarsi Una poetica cinematografica In cui mettevano in scena Una maschera Di se stessi Al naturale E questa cosa Secondo me Al cinema Per un comico È molto importante Funziona Ad esempio Anche Ricky Gervais Comunque È un comico Uno dei miei comici Preferiti Lui è sempre Molto se stesso Quando fa i prodotti Di lunga Durata I film Sì sai che tu stai andando a vedere Quella cosa in cui lui è lui Devi riuscire E quello al cinema paga Perché comunque ti dà empatia Con la persona Se tu fai un personaggio Strambo Che fa È raro L'unico che ci riesce È perché È Zalone Perché comunque si è creato Questo personale Però sei sempre lui È come se fosse lui Così anche nella vita normale Uno pensa Non è proprio lui Però è riuscito a creare Quel tantino Di caratterizzazione Non eccessiva Che però si identifica Con quello stereotipo Di Pugliese Camarro Ma non troppo Che dici Vabbè ma secondo me Lui è così nella vita Cioè ci credi Che lui è così Sì sì È un po' leggermente Sopra le righe Però è quello Che funziona al cinema Cioè quando vedi Un protagonista Che Vero Certo E nei miei film In realtà Questa cosa Non c'è stata Perché nel primo Ero abbastanza Caratterizzato Poi cambiavo Diventavo scemo Diventavo al 2% Partivo Da un personaggio Molto molto caratterizzato Molto fissato E nel secondo film Pure Eravamo due mezzi Matti Due mezzi casi umani Abbastanza pesanti Nonostante secondo me Le interpretazioni Sono abbastanza buone Sia di Mia Che di Luigi Di Herbert Anche nel secondo Però Forse gli manca questo No A questi film Un po' di Empatia Con i protagonisti Tra l'altro Hai fatto anche La radio In tutto questo Che sognavi Di fare anche Lo speaker Diciamo La radio Ti permetteva Anche di sceneggiare Delle cose Che magari Non potevi fare Sì Lo Zoddy 105 Però ho fatto Diciamo Sotto forma di scenette In diretta Ci andavo Veramente poco Dal 2011 Al 2016 Mi sembra Hai accettato subito Quando te l'hanno proposto Ci ho pensato un po' Perché Più che altro Perché Perché la quantità Di roba Da fare Per un programma giornaliero È enorme E quindi Io ho detto Ma io voglio fare anche I video Cioè voglio fare anche Altre cose Come faccio ad andare All'inizio Si pensava veramente Che io andassi in onda Poi ho detto Vabbè faccio il mio Poi grazie ad altri autori Che mi hanno aiutato A sviluppare anche I personaggi miei O a creare nuovi contenuti Sono riuscito a reggere Per anni E in più Grazie al fatto che Herbert E Ivo Avido Andavano in onda Loro erano sempre in onda Quasi sempre Sì all'inizio sempre E io me ne sono Hai lasciato Le tue scenette Sì Io faccio le scenette E basta Che cosa ti ha portato La radio Ti ha dato Qualcosa in più Assolutamente Beh comunque Intanto giocare molto Con la voce Che è uno dei miei Delle cose che mi piace fare Anche da piccolo Facevo le voci E poi giocare Portare avanti Capire come portare avanti Dei format Per molto tempo Cosa che io non sono Non ero in grado di fare Minimamente Perché Dopo aver fatto un video Passavo subito A un altro video Cioè non mi piaceva Insistere Su un contenuto Per troppo Che magari aveva Delle caratteristiche Che funzionavano Per non stufare Neanche te stesso Sì Sì Però ci sono Invece molte Cose positive Sotto Su questo aspetto Cioè Il fatto che tu porti avanti Un personaggio E lo fai vivere Anche nello spettatore E crei un affezionamento Un'affezione Allo Sì Anche il tormentone Sì Però tipo Padre Maron Mariottide In radio Sono Vissuti molto a lungo E grazie anche Alle autori Che mi hanno aiutato Che alla fine Rischiavano Non solo loro Le hanno portati avanti E si sono Formati nella mente Degli ascoltatori E hanno avuto Proprio una Parabola Tra l'altro Il tuo tipo di umorismo È comunque Ritornato Anche di moda In questo periodo Non so come dire I ragazzi di oggi Sono per il no sense Hanno sempre quel tipo di Insomma Sei uno dei pochi comici Che comunque Pur diventando grande Continua a essere Anche l'idolo Di ragazzi Giovanissimi Penso che il no sense Non morirà mai Perché È proprio Il simbolo Della Cioè la voglia Di non Di andare contro La realtà Cioè il no sense Che poi è quello Che mi spinge A fare questo lavoro È proprio La voglia Di Ribaltare Il reale In una forma Surreale Appunto Che ti fa volare In un altro mondo E dire Ok esiste anche questa possibilità No le cose possono essere così Ma io le invento Le metto in quest'altro modo E quindi è una forma di Di provocazione Cioè il modo che ho io Per dire la mia Sul mondo Che poi è un mondo senza È un non sense Il mondo stesso Ma ci sono delle cose Secondo te che non abbiamo capito Delle tue Cioè qualcosa che tu Con uno scherzo Qualcosa con cui tu volevi dire qualcosa Ma noi abbiamo capito Tutto il contrario Io penso che Se non l'avete capito voi Non l'ho capito neanch'io Ok Nel senso che Sono cose che tu fai E non spesso non sai Cosa stai facendo Non sempre Anzi Quando sei troppo Razionale Poi vengono fuori Delle cose che poi Non piacciono Io mi ricordo a molti contenuti E dicevo Questo spacca Questo è fighissimo E poi non erano così Apprezzati Mentre quelli che facevo Seguendo il flow E neanche chiedendomi Come sarebbero andati Spesso erano quelli più Più forti Sì perché poi vieni Segui questo flusso Questa ispirazione E fai le cose Che ti vengono Tra l'altro tu prima citavi Il fatto di Prima di Lolo Comunque di non aver mai fatto cose Dal vivo Adesso invece è un grande momento Per tutte le cose dal vivo C'è la stand Not comedy Tutto quel mondo lì Tu non ci avevi mai pensato prima Una cosa che non hai mai preso in considerazione Non ci avevo mai pensato prima Perché ho sempre detto No ma il mio lavoro è fare Video Regia Montaggio Attore Invece dopo Lolo Ho detto No ma io Posso fare qualcosa dal vivo Infatti sto preparando Già da un po' Però è ancora Un po' Una possibilità Non c'è ancora Ti so dire quando Certo Però uno spettacolo live Lo voglio Lo voglio fare Anche Anche sulla scia dei trailer Che ho fatto Non che voglia fare Un'ora di trailer Un'ora e mezzo di trailer live Però i trailer live Mi hanno dato questa spinta Si potrebbe fare Anche vedendo lo spettacolo di Lundini Ad esempio Che è bellissimo Tra l'altro Gioca molto Con Con Col surreale Con Con il linguaggio Dal vivo Con i video Gioca un po' Mi sono Insomma Sono convinto Che Di potercela fare Anche se devo superare Questa Questa barriera del reale Cioè il reale Poi ti mette di fronte Alla gente Davvero E Cioè anche solo Vedere le reazioni Delle persone Se tu dici una cosa No In qualche modo Sì Se tu fai una battuta E nessuno ride Eh Ti connessi Non è la soluzione Piangendo No ma io Non lo devo fare Aspettando Live Non ridono Merde Ci sono Invece Sicuramente Non potrei fare La stand up comedy Perché la stand up comedy Prevede che tu Sia comico Essendo proprio Totalmente te stesso Anche nella gestualità Sì Magari pure quella Potrei fare Però dovevi trovare Sempre quella maschera comica La vedo La vedo difficile Farla Mentre uno spettacolo Live In cui crei Una storiella Una storia Una serie di sketch La vedo Molto fattibile Cos'è che ti fa ridere oggi Di cose che vedi Sai che è una domanda Mi fanno sempre Rimango sempre spiazzato Però Dico sempre più o meno Le stesse cose Tipo Lundini Ah sì Come persone Quelli che abbiamo citato Ah di cose che vedo In generale No ma che ne so Ogni tanto non so Online Non so se tu hai TikTok o meno Ogni tanto ci sono C'è il linguaggio dei meme Che è una roba Che ultimamente Comunque ha preso Cioè brutalmente Se ci pensi ancora Vorrei provare A cercare di capire Qual è il meccanismo Per cui io vedo una cosa E mi fa ridere Non riesco a spiegarti Perché quella cosa Mi fa ridere O comunque in generale Ti capita di vedere qualcuno Che dici Questo qua è forte Mi fa ridere Ma ce ne sono tanti Non A parte quelli Che ti ho nominato già Tipo Vabbè I Giacal Lundini Degli The Pills Loro sono un po' I miei miti Beh con qualcuno Ho visto che recentemente Hai fatto anche La collaborazione Sul doppiaggio Ah Fabio Celenza Fabio Celenza Esatto Sì sì Fabio Celenza È fantastico Bravissimo Bravissimo Sì loro Sono un po' i miei amici Stefano Rappone Mi fa ridere Lo Sgargabonzi Mi fa ridere Sì Anche lui Surreale Lui faceva le schede Anche di Lundini Sì faceva le schede Di Lundini Però è anche uno scrittore Che ha scritto dei libri Favolosi Che io ammiro E quindi Insomma saluto Ciao ciao Alessandro E poi No questi sono Quelli che Edoardo Ferrario Sì comunque il mondo Di riferimento È un po' Un po' Quello Un mondo di comicità Che è un po' affine Alla mia Il surrealismo E che è frassica Ovviamente Frassica incredibile Perché a differenza Dei miei miti Del passato Di molti Alcuni dei miei miti Continua Insiste Nella sua Nel suo surrealismo Il suo nonsense Per questo dico Che il nonsense Non muore mai Perché comunque Si scontra col fatto Che il mondo È nonsense E quindi il nonsense Mette in scena L'insensatezza Della realtà E la ribalta E quindi Non può morire Cioè tipo Tu i griffin Li vedi? I griffin Sì sì Non sono Sì 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 Griffin Anche i simpson Però i griffin Sono più un nonsense Te l'ha chiesto Rapone Se preferisci i griffin O i simpson Che loro ci hanno la Sai che Non so rispondere A questa domanda No loro è una cosa A cui tengono Mi sembra No a me piacciono Entrambi comunque Sono parzialmente Sono diversi Per l'altro In tutto questo Tutto tuo Questo percorso Che dovrai fare ancora Mille cose Cioè a un certo punto Finisci anche al centro Del gossip Che è una roba Incredibile Che succede Come l'hai vissuta Tutta quella situazione? In maniera strana Sinceramente Perché Io sono cresciuto Con la televisione Come ti dicevo E cresciuto anche Col mito della tv Berlusconiana E quindi quando Però anche con Nei miei video C'è anche un po' La critica A tutto questo mondo Cioè proprio I linguaggi mediatici Sono per me Al centro Della mia parodia Sì Della mia presa in giro E quindi Ritrovarmi Nelle foto Di chi Sì infatti Quello è successo Che sembrava Un tuo sketch Eh ritrovarmi Nelle foto di chi Per me era Un Un fall Quasi un fallimento Cazzo Sono stato inglobato Dal sistema Che ho da sempre Criticato In qualche modo Da questo mondo Che poi Non mi apparteneva Minimamente Perché non è Non uno Non sono uno Che va Fa questo C'è questo tipo di vita Milanese Questo mondo qui Quindi Però Ho conosciuto lei Ci siamo Però è successo Cioè nel senso Eravamo Simpaticissima Lei era la mia fan Aveva visto Mario Che per curiosità Come vi siete conosciuti Aveva lavorato Aveva lavorato Con la Jalappas In un'edizione Del 2007 Se non sbaglio E lì C'eravamo giusto Incontrati E lei aveva Voluto ardentemente Partecipare a uno sketch Di Mariottide Sì ha partecipato Sì sì nel 2007 Poi da quel momento Non ci siamo più sentiti E poi mi ricordo Che grazie a Mario E grazie a degli amici in comune Alla serie che avevo fatto Su MTV Lei Mi iscrisse Dicendo troppo figa La serie Mario Mi piacerebbe partecipare E è stata un'occasione Per iniziare A scriverci Stava parlando Di Elisabetta Canali Sì stava parlando Di Elisabetta Canali Se qualcuno lo sapesse Però effettivamente Vedere quelle foto lì Anche a tutti i tuoi fan Aveva fatto Un'impressione positiva Io lo dico Da quel punto di vista Dicevo grande maccio Esatto Gliel'ho buttato Tutto così Ti dicevo Immagino le battute Quando andavi in giro Gliel'ho buttato Scopare Quelle cose lì Oppure alcuni Anche adesso Mi scrivono E vi ricordo Che questo Si è fatto la canale Come per dire Guardate che faccia Portateli rispetto Oppure guardate che faccia Che c'è Incredibile Però tra l'altro Tu invece ad esempio Anche all'aspetto fisico Mi sembra che tu ci tengas Se ti vedo sempre in forma Io ultimamente sto proprio seguendo Una No non mi sto allenando Perché ho un po' di problemi Alla schiena Quindi faccio solo stretching Cose un po' di allungamento Ok Però sto mangiando molto bene E poco Cioè non sto Nonostante il trasferimento a Roma Che comunque Di solito porta Anzi Cioè ho deciso Che la mia Di mangiare poco Per tutta la vita Di non abbuffarmi più E questo perché Facevo spesso i digiuni Ogni tanto facevo i digiuni Perché sentivo Che stavo scoppiando Dico basta E facevo dei digiuni Di 6-7 giorni Però dopo il digiuno Che ti dici Cazzo ma è bellissimo Ma l'uomo non ha bisogno Di mangiare Così tanto Stai benissimo Senti leggero È una roba figa il digiuno Sì che va fatto chiaramente Con criterio Con criterio Sì Però poi mi rendevo conto Dopo un po' Iniziamo a fare schifo Cioè dopo due mesi Di questo atteggiamento zen Nei confronti del cibo Ho iniziato a fare Di nuovo schifo E a abbuffarmi E quindi ho detto Ma invece di fare il digiuno Una volta all'anno E poi fare schifo Per altre Tanto vale Tanto vale essere Tanto vale essere Costanti sempre Perché poi le cose importanti Sono quelle che fai tutti i giorni Non quelle che fai una volta all'anno E quelle che fanno la differenza Quindi ho detto Ma adesso mangio Mangio poco Mangio bene Sono pure diventato vegetariano Ah pure Sì Insomma Ho visto C'è una serie su Netflix Tra l'altro Bella Game Changer Bravissima L'ho vista anche io Quella mi ha fatto venire un po' di voglia Sì Anche a me Io l'ho fatto perché Non sono in grado di uccidere Nessun essere diverte Ok E quindi ho detto Come scelta E quindi ho detto Ma se non voglio ucciderlo Perché devo beneficiare Di chi l'ha ucciso Di questa cosa Sarebbe bello Se vuoi la carne Ti dice Dai uccidi questo porco Non mangerebbe effettivamente nessuno Io non lo ucciderei Forse la pesca Forse i pesci Mi è successo di pescare Quindi è diverso Però non mangio neanche pesce Beh Quindi questo è buona sapersi Per vedere insomma Per rispettare la tua forma fisica Per chiudere poi In tutto questo percorso Fino ad oggi Qual è la cosa che ti ha soddisfatto Di cui sei proprio tanto orgoglioso Di tutto quello che hai fatto Fino ad oggi Lavorativamente parlando Sì Insomma In generale Il tuo punto di vista Sì Potrei dire della mia ragazza Di avere una relazione Sì Beh Sono molto orgoglioso di Miriam Perché Di aver trovato Questa relazione Molto simbiotica Con questa ragazza Con cui sto insieme Nessere sette anni E con cui mi trovo Benissimo Cioè Ed è una Bellissima questa cosa Che stai dicendo Ed è una cosa Che non ho mai Cioè Non Non sognavo Non sognavo Una relazione così All'inizio Quando sei giovane Dici Ma voglio Tante relazioni Voglio una vita Di sesso Invece Poi ho conosciuto lei Ho trovato L'equilibrio Ho trovato Questo equilibrio Molto Molto bello Tra di noi Quindi Questa è una delle cose Non deve essere Lei cosa fa nella vita? Lei fa la mediatrice culturale Ok Quindi Nel senso Anche starti dietro Anche semplicemente alla testa Le idee che hai Le cose che fai Non so se Com'è facile Secondo te Dal tuo punto di vista No per lei non è facile È molto difficile Starmi dietro Però lei comunque pure C'è il suo mondo Certo E quindi anch'io È bello perché ci siamo Si sono incontrati due mondi Diversi Che hanno delle cose in comune Nei quali Ognuno è compenetrato Sì Lei fa l'attrice Nei miei video Fa l'attrice Insomma Ha partecipato A tanti miei video Mi aiuta Io faccio le cose Che fa lei Lei ad esempio È un'appassionata Per dirti Che ne so Di Di tecno Io ho scoperto Il mondo della tecno Il tecno La musica tecno Sì sì Delle feste berlinesi Dei party Questo mondo qui Mi ha coinvolto In questa roba E quindi C'è stato proprio Un bello scontro Un incontro Un completamento Un completamento Beh che bomba Bello Bello che in tutto questo Il pensiero è stato Su di lei Questo è veramente figo Vabbè Insomma io ti ringrazio Un sacco Anche della mia famiglia Beh certo Anche dei miei genitori Che ho sempre Anche nel libro Critico Perché sono dei Li ho sempre definiti Una fantastica storia d'odio Però alla fine Loro mi hanno dato Proprio questa possibilità Di essere Geneticamente Così Ma loro ti dicevano Tipo Ma sei pazzo Ma cioè Ma che robe Siano mai preoccupati Di quello che stavi facendo No io ho sempre detto Ma loro Voi siete pazzi Siete pazzi Io non voglio stare qui A vivere qui In questa casa Con voi Voglio andare via Invece quella pazzia Loro Me l'hanno Trasmessa E quindi È proprio grazie a quello Che io sono diventato Quello che sono Quindi è Chiaro E loro quando hanno capito Quello che stavi facendo Quando sei andato in tv Forse Non penso subito No neanche lì Si sono resi conto No penso Dopo un po' Dopo Forse adesso Ora Dopo il film Libri I genitori fanno fatica Un po' Da un lato sono molto orgogliosi Dei propri figli All'altro però È come Nemo profeta in pace Certo Non riconoscono subito Forse Sì Dicono ma questo Ma che cazzo è Stano Ma questo Che vuol dire Cioè tutto così Però Poi Adesso sì Sono molto orgoglioso Chiaro E Maccio Arriva da dove Maccio Capatonda Da Marcello No è un nome Che ho inventato a caso Mentre facevo lo speaker Della febbra Ah sì Lì durante la febbra È nato Maccio Sì io dicevo Sparavo dei nomi Io ho girato il trailer Poi l'ho montato E poi mi sono messo Nell'armadio Che era il mio Covo da speaker E ho sparato Nomi a caso Leggevo il testo Dello speaker Tipo Un virus A cui non puoi sfuggire Ma neanche proprio Guarda È una cosa pazzè Io ci ho provato niente E poi dicevo dei nomi Tipo Aldo Marrini Franco Mastallo Giovanni Caltazzinetta Delle cose a caso Tra cui Maccio Capatonda Ah così Non era scritto Pensavo che arrivasse da Marcello Sì ma inconsciamente Poi inconsciamente Sicuramente deriva da Marcello Da un'abbreviazione Da una crasi Tra Marcello Marcellaccio Non lo so Poi ho scoperto questa cosa assurda Che mi fermò un insegnante di latino Dieci anni fa Mi fa Maccio complimenti Abbiamo fatto Una retrospettiva Con i miei alunni Su di te E su Plauto E io dico In che senso Come tu insegni Tito Maccio Plauto Ah beh Certo Sì certo Tito Maccio Plauto E quindi lì ho scoperto Che esisteva Un maccio Il nome Maccio Esiste Non è Esisteva Nell'antica Roma Cioè loro ci avevano visto Dietro Chissà quale Loro pensavano Che c'era Perché poi Plauto È un commediografo Quindi c'era un senso Sì Pazzesco Che però Che si chiamava Maccio Io non Sapevo Pensavo di aver inventato Un nome Invece non Invece Maccio Che poi ha fatto mille avventure Ti sei mai ritrovato In una di queste avventure Non dico fuori luogo Però tu ti sei sentito Che non so Su un red carpet Hai detto Ma io che ci faccio qui Ti è mai capitato In che senso Invitato Sì O in una delle tante cose Che hai fatto Poi insomma Grazie anche alla popolarità Dov'è che mi sono sentito Fuori luogo Ma sì Mi sento Il segreto Del mio personaggio È sentirsi Sempre fuori luogo Ok Ed è bello Perché è un valore È un valore assoluto Perché hai Una prospettiva Comica Da cui racconti le cose E sei il nostro uomo In missione Maccio Non sono mai pronto Quando mi dicono Maccio sei pronto Mai Però io ti dico Grazie davvero Continua così Sempre meglio Grazie davvero Per questa chiacchierata Non vedo l'ora del film A questo punto Del terzo Anch'io Per ora ci leggiamo i libri Libro 1 Libro 2 Non potremmo dire Era meglio il libro Perché non c'entra niente No Chissà come si intitolava Il terzo Beh Non film Perché l'hai lasciato Per il libro Vediamo Grazie davvero Grazie Maccio Capatonda È passato dal basement Grazie Grazie